Agente traditore rilevato. Mina a ricerca riparatrice e traditore rilevato. Mina a ricerca riparatrice nemica rilevata. Torretta artiglieria e traditore rilevato. Torretta artiglieria nemica rilevata. Corpisco la cella! Torretta artiglieria e traditore rilevato. 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 Non posso colpire da tutto Faccio ciò che devo Segni vitali critici Ricarico Abilità Agente necessita supporto Agente traditore Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto